Salve a tutti. Come spesso mi succede di sottolineare nel corso dei miei video sul canale YouTube Mark on the News, la digitalizzazione, il processo ineluttabile di digital transformation che attraversa tutti i settori dell'economia, delle attività economiche, ma della società, della vita dei cittadini, continua in Italia, ma nel mondo intero, a procedere a navigare a vele spiegate, così per utilizzare una metafora dal sapore un po' marittimo. Ma è l'unica vera e incontestabile verità. C'è un aspetto che sta prendendo piede nei dibattiti che riguardano comunicazione, informazione, giornalismo, tecnologia e digitalizzazione. Parto da un estratto di un articolo tratto dal Financial Times. Il 2023 è stato definito dal Financial Times, l'importantissimo e autorevole giornale britannico, inglese, l'anno, dicevo, dell'artificio l'intelligenza artificiale. Lo scenario tecnologico in generale vive una fase di fortissima, elevatissima dinamicità e in particolare si parla sempre più della tecnologia chat GPT. Che cos'è la chat GPT? È intanto una tecnologia cosiddetta di artificial intelligence generative, cioè in grado di generare dei risultati, e poi vedremo quali in brevissima sintesi, sul versante in ambito dell'intelligenza artificiale. In particolare, da un'importante esperta di generative artificial intelligence, è stato sottolineato che entro il 2025, quindi diciamo da qui a un paio di anni, esiste la possibilità più che concreta che addirittura circa il 90% dei contenuti online verrà sviluppato da intelligenze artificiali generative, in particolare da chat GPT. Ora, questo cosa significa? Che tramite l'intelligenza artificiale si potranno generare immagini, per esempio, ma anche testi complessi, articoli, partendo da semplicissime descrizioni di tipo testuale. Questo sta un po' allarmando progressivamente, diciamo intimorendo, più che allarmare forse eccessivo, diversi operatori giornalisti, operatori dell'informazione, in particolare forse giornalisti freelance. Non lo so, questa è una mia sensazione, un mio sentore, ma chiaramente potrei essere smentito. Direi che è importante tenere d'occhio quello che sta generando tutto ciò che attiene all'intelligenza artificiale, ai suoi algoritmi, alla capacità di inserirsi in ambiti come quello della comunicazione e del giornalismo, oltre che in tanti altri, sia ben chiaro, portando ad ulteriori cambiamenti pressoché epocali anche nell'ambito del mio mestiere, del nostro mestiere. Parlo di noi giornalisti. Credo che sia un argomento importante, che sia un passaggio da tenere d'occhio e da studiare nella sua evoluzione con grande attenzione. Quindi cerchiamo di riflettere però anche su un altro aspetto. Teniamo ben d'occhio questa evoluzione, questa possibilità, per alcuni già avviata verso una sua ineluttabilità, nel senso inevitabilità. Però teniamo sempre presente di quanto è importante, di quanto debba necessariamente continuare ad essere importante l'elemento prettamente umano nel redigere un testo, nel raccontare un fatto. Io continuo ad avere qualche perplessità, ma potrei essere, ripeto, più che smentito dagli eventi prossimi, sulla capacità di un algoritmo, di una tecnologia, di riportare un certo sentore, un certo sentiment, nelle schede in una situazione particolare in cui sono i protagonisti esseri umani e le loro interazioni, diciamo nel raccontare il tutto questo da parte di una, chiamiamola tecnologia. Comunque, credo che sia importante tenerla d'occhio, che sia importante approfondirne i dettagli, le potenzialità, perché potrebbe comunque anche apportare, credo, qualche elemento, non soltanto di novità, ma di ulteriore funzionalità da poter sfruttare, di cui poter approfittare. Fermo restando che dobbiamo necessariamente essere consapevoli di quanto sia importante l'elemento prettamente umano che possiamo e dobbiamo e dovremo continuare ad apportare come professionisti, operatori dell'informazione, della divulgazione, scritta e non scritta, per dare valore aggiunto a ciò che viene comunicato. Comunque, la faccenda è complessa, credo che sia comunque importante tenerla d'occhio. Quindi chat GPT, comunicazione, informazione, elaborazione di testi, divulgativi, giornalistici, informativi, teniamola d'occhio, ma non facciamoci prendere da un allarmismo che potrebbe rivelarsi, quantomeno in parte ingiustificato, come comunque penso sia anche giusto riaffermare l'importanza della qualità dei testi elaborati direttamente dalla sensibilità di un operatore dell'informazione. Comunque, l'argomento va sicuramente, come posso dire, approfondito e tenuto d'occhio. A presto, sempre con un altro video e sempre con Mark on the News. Ciao a tutti.